Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi facciamo un unboxing, sapete che non ce ne sono tanti sul mio canale però so che questa è una cosa molto amata da voi e ci tenevo particolarmente in questo caso perché si tratta di una cosa legata a Six of Crows e quindi come non fare un unboxing delle candele di Cosy Corner Candle, sapete che è il mio shop di candele preferite, io ho un leggero problema con le candele non so se si nota dalla mia libreria, immaginatevi quelle sparse per casa e quindi niente, visto che Clarissa tra l'altro è sempre bravissima io adoro, mi fa un sacco piacere proprio parlarvene, bando alle ciance, ho ricevuto due pacchetti abbastanza giganti cioè no, uno è grande e l'altro è un po' più piccolo ma perché secondo me non ci stava nel primo, quindi questi sono i due pacchettini adesso li vado ad aprire insieme a voi, forse dovrei dotarmi di forbici, magari li vado a prendere allora io ragazzi in queste cose sono veramente impedita, ho la grazia di un Tyrannosaurus Rex e ora procederò con l'apertura perché è veramente un po' impossibile, la cosa bella di Cosy Corner comunque in tutto ciò è che è impossibile che succeda qualcosa alle candele o almeno è molto difficile, già devono proprio sbattacchiarle per terra perché è tutto estremamente imbottito infatti quando le aprite questo è quello che vedete, vabbè le ho tolte da lì ogni candela c'ha già scritto sopra che cos'è e è appena uscita tutta la collezione di Six of Crows e quindi potevo lasciarle lì? No, voi direte magari sì ma no, no, figuratevi e quindi niente adesso ne mancano anche le altre due, le apro un attimino e poi ve le faccio vedere tutte così vi dico anche le mie prime impressioni, sono molto emozionata, sono un po' di aspettative, leggermente ci ho messo una vita ma le ho tolti tutti dal plurible, ora partiamo e andiamo per ordine la Tiffany del futuro poi vi inquadrerà, vero Tiffany del futuro, tutte le candele partiamo dalla prima che è Ravka, Sharp Ravka che era parte della collezione della Winter Collection, quindi insomma non c'entrava con quella di Six of Crows ma ovviamente è legato perché Six of Crows, in realtà non Six of Crows ma soprattutto la Griscia è ambientata a Ravka allora, dovrebbe sapere di Russian Coriander White Mask Heavy Leather allora è bianca, intanto scusatemi, il profumo è veramente molto buono è ciò che io mi aspetto da questa cosa, è veramente molto buono perché ha questo sentore il muschio poi è molto avvolgente ma anche un qualcosa, non so come dire, di un po' maschile che è sicuramente questo Heavy Leather ma sa di aperto, aperto in inverno che non ha senso, but this is the way it is, è molto molto carina l'odore è veramente molto buono ed è perfetta anche se c'è della neve, sapete che io ho paura della neve quindi la guarderò almeno possibile ma se escludo questa parte qua ci sono dei pinnacoli tipicamente russi ed è veramente molto carina, è molto molto adatta a Ravka me la immagino così, quando un giorno la visiterò sarà così vado avanti e finalmente incontro il primo personaggio di Six of Crows che è Jasper e il bene che noi gli vogliamo a Jasper, cioè almeno io gli voglio un gran bene vabbè ma io voglio bene a tutti, non vale ok, che è Sharpshooter Jasper, infatti tutti i personaggi di Six of Crows hanno il loro aggettivo che è il loro soprannome fondamentalmente e in questo caso Jasper sa di Blackcurrant, Louisiana, Verge, Bergamot e Gunpowder allora il colore è leggermente, tra il grigio e l'azzurro un po' indaco beh è veramente potente, è molto buono perché si sente c'è questa cosa un po' avvolgente, un po' calda che è sicuramente il Blackcurrant ma emerge molto il Bergamotto c'è una nota un po' aspra, no aspra, però sa di agrumi, leggermente a sprignoli che è tipico del Bergamotto ed è buono infatti non è forte, diciamo che è molto caldo comunque come cosa Louisiana Birch non so cosa sia quindi non riesco ad aiutarvi comunque diciamo che è molto molto buono mi piace un sacco, questo è un odore veramente buono una bellissima combinazione tutti i personaggi di Six of Crows come etichetta hanno proprio un personaggio fisico non sono astratte come spesso era all'inizio è una scelta che in questo caso trovo molto sensata in generale mi piace un po' meno però alla fine sono tutti molto coerenti e molto adatti almeno dopo vedrete bene però in questo caso abbiamo il nostro Jasper che è molto carino poi arriviamo a quello che è in realtà una riedizione però aggiornata e leggermente diverso ovvero la nostra Nina che in questo caso è Artrender Nina che è la sua caratteristica come gricia sa di Soft Suede Red Apples Carnation & Waffles come l'altra è sempre colore insomma abbastanza intenso questo fucsia molto molto denso ed è veramente buono, si sente tantissimo in questo caso i Red Apples a meno le mele rosse a meno io lo sento tanto e un pochino anche il Carnation che è, non mi ricordo in italiano cosa sia, ve lo scriverò nei sottotitoli non c'ho voglia di prendere cose e poi c'è Nina carina, è molto molto buona anche questo questo è dolce, ha un sapore molto dolce cioè che è adattissimo a Nina è perfetto per Nina vado avanti e c'è Baby Wyland ovvero The Runway Wyland adorabile, adorabile che dovrebbe sapere di Lavender Only Dew Melon Pink Pepper e Geranium devo fare cose bene quindi il colore è questo marroncino molto tenue buono profondamente da qua allora sento poco il Lavender vi devo essere sinceri però questo non è che sia male si sente un po' la nota di melone che è dolcina rispetto invece al geranio che è la nota floreale che emerge di più e il pepe che gli dà quella nota un po' frizzantina in fondo Wyland fa scoppiare le cose non vedo l'ora che esca in Italia così finalmente potrò spoilerare anche al mondo è veramente buonissima questa combinazione mi piace tanto e poi Wyland è molto dolce ma ha anche questo lato frizzantino e secondo me è adattissimo è molto molto giusto arriviamo invece a Mathias che non potevamo non avere qua devo smetterla di fare spoiler comunque è Convict Mathias che sa di Peppermint Spicy Corander Oak Moss Cold and Amber trovo che sia molto giusta visto che stiamo parlando di un Fjerdan quindi l'odore è questo l'odore il colore è questo azzurrino anche questo un po' tendente al grigio molto tenue e l'odore è molto molto buono devo dire che me lo immaginavo un po' più fresco dalla descrizione si sente tanto l'Oak Moss cioè che è tipo non so descrivervelo e un po' meno il Peppermint ecco quella è la cosa che si sente un po' meno però è una buona combinazione sa comunque di fresco senza essere troppo non so come dire troppo corroborato dalla menta anche perché si sente un pelo meno come nota però secondo me invece è molto adatto ed è anche a quel tono un po' mascolino che effettivamente ci sta con Mathias che è il classico personaggio mascolino ecco poi passiamo alla mia bambina ciò che io aspiro ad essere nella vita ovvero Rape e Neige che sa di Violet Leaf Black Pepper e Indonesian Patchouli che lo trovo come descrizione molto adatto a di Neige il colore è viola come è giusto che sia oddio l'odore è buonissimo e allora vi aspettavo qualcosa di più non so come dire nella mia testa era molto più incenso molto più diciamo non saprei neanche descriverlo forse nella mia testa in realtà ha una leggera nota che definirei quasi medio orientale ma è proprio leggerissima per il resto risulta una combinazione abbastanza dolce ma senza essere eccessivamente dolce no è veramente buonissimo cioè Neige perfetta amo Ah Neige e Neige e Neige ok questa è veramente una delle mie combinazioni preferite sono molto felice che sia per i Neige è un po' dolce si sente un po' la violetta ma non il lato della violetta più non so la violetta sa di detersivo di solito qua invece gli da quel tocco quasi vaniglioso un po' più dolce e che viene compensato dagli altri due odori quindi è molto gradevole è veramente buonissima passerò la giornata così sono super contenta è proprio la mia preferita ed è per ora è la mia preferita è molto buona anche insieme alle altre ma questa è proprio perfetta poi passo a quello che io un giorno limonerò perché cioè non c'è altro a Nicolai a Too Clever Nicolai perché il suo pronome è Too Clever Fox oltre a un altro che non vi dirò perché se non avete letto la griscia spoiler e in questo caso The King of Scars sa di Ocean Breeze Bay Leaf Guayaquat e Seamoss che è perfetto perché stiamo parlando di un pirata o un marinaio allora apriamo è Nicolai che ha questo colore un po' teal più tendente all'azzurro che al verde però giusto giusto molto giusto è praticamente similissimo al come si dice il è molto simile al giubbotto giubbotto non neanche non so neanche come definirlo che indossa nella copertina ma vanno alle ciance ok l'odore è veramente molto buono mi piace tantissimo adesso poi io non so niente di queste cose però vi posso dire se è una cosa vi piace o meno mi piace o meno trovo adatta come odore o cosa io associo a dei personaggi in questo caso ha questa nota che ricorda il mare che è molto giusta è molto corretta per il personaggio però ha qualcosina di più dolce che smorza un pochino magari l'aspetto del breeze del sea breeze e si molto buona mi piace veramente tanto è molto adatto a Nicolai insieme a Ines è la mia preferita fino ad ora e poi arriviamo alla fine arriviamo a quello che chiaramente prima Nicolai lo vorrei limonare perché tanto prima o poi succederà non so cosa fare con Kaz e quindi abbiamo Dirty Hands Kaz che ho tenuto per ultimo apposta perché su questo ripongo un sacco di aspettative quasi più che su Ines e in questo caso dovrebbe sapere di Liquorice Melted Caramel Bobbon e Leather che è giustissimo perché stiamo parlando di una bisca clandestina c'è questo Kaz un po' pigliato male con le botte in faccia io adoro queste cose il colore è grigio scuro perfetto e qua ci siamo allora l'odore è perfetto definirei perfetto si sente un po' la nota alcolica ma leggermente che è data dal bourbon e anche la nota un po' però addolcita dal caramello però non è un caramello molto dolce non so come dire lo addolcisce un pochino ma non lo prevale e poi si sente un po' la liquerizia che in realtà riesce a combinare benissimo entrambi è veramente molto buono anche questo ora sono molto indecisa su quali siano le mie preferite no poi è più che altro è veramente adatto cioè la cosa che a me piace di Clarissa che al di là di tutto è che riesce a trovare delle combinazioni che esprimono i personaggi che comunque te li ricordano e questa cosa mi piace molto è la cosa che apprezzo di più di questa cosa io non saprò mai fare queste cose nella mia vita invece lei ci riesce e sono veramente sempre sorpresa perché è una cosa molto bella e buono è veramente buono anche questi ok final thoughts recap a livello di etichette come vi dicevo prima io non amo particolarmente il personaggio sull'etichetta preferisco le cose un po' più astratte però devo dire che sono tutti molto giusti per i personaggi sono comunque esprimono quello che è il personaggio i miei preferiti sono Inej Nicolai e Kaz e non è un caso cioè non è che lo sto dicendo perché sono effettivamente i miei personaggi preferiti come combinazione di odori è una cosa che mi ha stupito molto Inej poi devo dire che mi ha stupito particolarmente quindi lei leggiamo Regina di questa collezione perché effettivamente mi piace veramente tanta come combinazione questo è un gusto però personale scusate le poso prima che io faccio i danni e le lanci da qualche parte e le rovini nel senso che a me ad esempio non piacciono moltissimo gli odori molto dolci c'è chi invece li ama e quindi dipende anche molto da voi io ad esempio ho una grande passione per l'ambra nel senso dipende sempre anche dai vostri gusti eccetera secondo me sono molto giuste e adatte ai personaggi tu mi dimenticavo anche Wyland mi piace molto devo dire devo essere sincera cioè tutte mi piacciono è vero che magari che ne so Nina ha un gusto più dolce rispetto a degli altri che quindi per chi ama gli odori più dolci più legati alla vaniglia più legati al coso piacerà tantissimo Nina secondo me è molto bella è molto interessante Ravka mi piace molto perché adatto sa di aperto sa di clima invernale cercando però di essere un po' accogliente non so non so neanche dirvi però mi danno queste sensazioni queste cose e sono molto contenta che siano tutte adatte trovo che i personaggi siano espressi benissimo e io non vedo l'ora veramente che voi li leggiate se non li avete ancora letti ma se siete su questo canale vi avrò tormentato così tanto che prima o poi qualcuno ce l'avrà fatta e pensate quanto diventerò martellante quando uscirà è proprio vabbè a parte queste considerazioni come sempre io sono veramente super contenta di questa collezione ma in generale non avevo dubbi perché so che è una grande garanzia come sempre vi ricordo che se a voi fa piacere acquistarli potete giù trovate tutte le info tutti i link eccetera eccetera e ovviamente tra i pregi di questo negozio che è tutto fatto a mano in Italia è prodotto in piccole quantità da Clarissa che è una piccola artigiana ovviamente come sempre vi ricordo che c'è anche un codice sconto se utilizzate il codice COSYFICTION vi beccate un po' di sconto che non fa male e comunque trovate tutto il recap eccetera eccetera mi fa davvero super piacere supportare queste piccole realtà perché insomma poi ne hanno bisogno un po' fanno delle cose che trovo sempre valide sono 100% hand poured cioè fatte a mano cruelty free perché è tutto di soia e vegan e quindi insomma cosa meglio di tutto ciò e niente io adesso andrò ad annusarmeli per un altro quarto d'ora perché niente spero che questo video vi sia piaciuto un po' più leggero del solito e fatemi sapere se qualcosa che vi ho nominato vi ha ispirato e io come sempre vi ringrazio e direi che ci vediamo al prossimo video ciao